Prove tecniche di alleanza. Il centrodestra a Vicenza, la ricerca di convergenze, quadrature tra anime e pensieri che da volta più che incontrarsi rischiano di scontrarsi. Al tavolo lega Forza Italia e liste civiche, un puzzle da mettere insieme davanti una decina di mesi. Prima che l'era variati arrivi a conclusione, il testimone passi senza colpo ferire il suo vice, Jacopo Bulgarini, già partito in città con la sua associazione. Le fughi in avanti non mancano, con Forza Italia che lancia anche possibili candidati, pronto il richiamo della Lega che vuole evitare gli errori del passato. Gli errori del passato riguardano i candidati ad esempio imposti e non condivisi con la base, non condivisi né con i partiti a livello locale né con le liste civiche. E subito dopo aggiunge. Chi dovrà decidere rispetto a queste scelte dovrà comunque e sempre tenere conto di chi in questi anni ha lavorato in città ed è riuscito a creare anche rete. Se il confronto è d'obbligo, più importante è ancora la chiarezza sui candidati. Il caso Verona delle scorse amministrative brucia ancora. Lì l'alleato Forzissa sosteneva la Tosiana Bisinella e non il candidato della Lega, una situazione che la Lega stessa non vuole più rivivere. A Vicenza dovremo arrivare quanto prima ad un accordo e ci aspettiamo anche come Lega Nord che il comportamento degli alleati sia coerente rispetto a quanto viene fatto oggi in Regione.